Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Per le statali, riduzione di carreggiata per cantieri sull'Aurelia, tra Rio Torto e Follonica Est, verso Roma, e sul raccordo Siana-Firenze tra Poggi Bonzi e San Donato, in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla statale 12, la Pettone del Brennero, dove troviamo senso unico alternato per Frana, Trappofiglio e La Lima, al chilometro 68,9. Per il traffico ferroviario informiamo che la biglietteria di Montecatini Centro è chiusa oggi, martedì e mercoledì. Domani, 30 gennaio, sarà chiusa la biglietteria di Sesto Fiorentino. Prima di salutarci, per il traffico aereo, il volo Pisa-Parigi delle 16.10, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 18.00. Muoversi in Toscana Infia, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!